Quella contro il Chevo è stata la nona sconfitta consecutiva in campionato per il Palermo per un totale di 12 K.O. stagionali, numeri allarmanti per una squadra in crisi di risultati e di prestazioni. Corini continua a ribadire fiducia e speranza, ma è chiaro che le parole adesso vadano necessariamente accompagnate con i fatti, già a partire dall'ostica trasferta contro il Genoa di domenica sera. A bocca di Falco, in settimana, Corini ha provato a mischiare le carte in termini di posizioni e interpreti. Il Geno è un avversario complicato, ha dichiarato Corini, che in casa dà il meglio di sé, dobbiamo fare qualsiasi cosa per portare a casa un risultato positivo. Si ripartirà, certamente, dal 3-4-2-1. Per ovviare a una scarsa vena offensiva, il mister Bresciano sta pensando di togliere una mezzala e inserire un trequartista. I dubbi, in questo senso, sono diversi, ma legati principalmente alle condizioni di Alessandro Diamanti. Corini, nella sua formazione titolare, ha provato sia lui che Salai al fianco di Robin Kwaison. In difesa, Goldaniga ha bisogno di recuperare sicurezza, ma nonostante il blackout della scorsa gara, dovrebbe ritrovare comunque un posto da titolare. In panchina, andrà invece probabilmente Iliamark, visto che il centrocampista ha praticamente le valigie pronte per il mercato di gennaio. Grazie. Grazie.